Ehi, cosa stai facendo? Siete in giù di lì! Vattene via! Non riuscirei a farmi cambiare idea! Avanti, scendi! Non fai subitaggi! Hai visto? Non è stato complicato! Allora? Perché l'hai fatto? No, nessuno! A scuola tutti mi prendono in giro! Perché non ho vestiti come loro! Non esco la sera! Sennò... No단 Michael is la festa di non ho stande. Nobola si fait dalmer! Non è un corpo... E che è resto là! Nobola! Dove che voglia di nonультare le loro pe. Ciao Gio, tutto bene? Sì, ma cos'hai? Cos'è successo? Nulla, mai niente. Sei sicura? Guarda che tornavi in faccia e faccio qualcosa di nuovo. Oggi una ragazza a scuola mi ha accacchiata. Ho cercato di difendermi, ma c'è il fatto. E tu cosa hai fatto? Nulla! Cosa dovevo fare? Le solite prese per il culo. Non ne posso più! Ora stai a calma, calma. Sai che cosa facciamo oggi? Ti porto in giro, facciamo una passeggiata, ci divertiamo e basta. Ci provo a calmarmi. Ci divertiremo. Dù, 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 dù. I love you and we're going to be friends. I want us to shake hands. I love you and we're gonna go the way I want us to be today I love you and we're gonna go the way I love you and we're gonna go the way I love you and we're gonna go the way I want us to be today Allora? Come sto? Che bellissimo! Allora 19 e 40 Prego Allora 19 e 40 Allora 19 e 40 Allora 19 e 40 La 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 domani arriverà domani arriverà lo stesso E' una ultima cosa ho passato dei momenti fantastici con te sei un bellissimo ragazzo Aspetta devo prima dirti una cosa io Pronto? Si chi è? Come? Come sa? Oh mio dio Arrivo Cosa c'è? Cosa è successo? Mia madre è malata è la causa di tutti i miei problemi Scusa devo andare Com'è sta la tua madre? E' mia mamma Mi dispiace Dopo in poi per qualunque cosa io sono qui Scusa Chi è? Nessuno Dai chi è? E non è nessuno E dai chi è? Non lo so è il mio ragazzo Ho cercato di dirtela ma ti ascolta il telefono No dai cioè facciamo domani Ma che diavolo Ehi fermati Vattene via Ma che dici scendi Vattene via Ho scelto No dai 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.